Ciao, oggi parleremo del prototype scrolling, ovvero come si scrolla all'interno di un prototipo. Il prototipo è tutta quella parte che permette di collegare le diverse schermate che abbiamo disegnato, di fare delle interazioni, di poi effettivamente far provare alle persone, prima di passare alla programmazione, un assaggio di come potrebbe poi avvenire la navigazione e l'interazione, molto utile per i test. Una grossa fetta di setteggi della prototipazione è proprio lo scrolling, magari vogliamo avere dello scrolling verticale sul contenuto di una pagina, magari avere delle card all'interno di un carosello che vanno in orizzontale, questo qui possiamo vedere oggi come farlo. Allora, ci sono due sezioni di settaggio del prototype, se noi clicchiamo su un frame e andiamo su prototype, abbiamo questa parte qui dove c'è già una parte di scrolling, in questo caso è uno scrolling. Noi adesso facciamo un caso in cui abbiamo un contenuto di una pagina che va in verticale e quindi noi vogliamo che poi questo sia scrollabile in verticale. Andiamo quindi a mettere vertical scrolling. Compare questo, questi qui spesso sottovalutati in realtà sono molto utili e ci dice che per far sì che lo scrolling in verticale funzioni c'è bisogno di un contenuto che vada effettivamente oltre il frame. Adesso andremo poi a vedere. Se cliccate qui poi c'è un show prototype setting che sono invece i settaggi totali, infatti vedete che ha deselezionato questo, dove è possibile selezionare un device e andare a decidere la dimensione del prototipo. Se non settiamo nulla lui andrà a usare la dimensione di questo frame. Ok, andiamo adesso a iniziare a mettere del contenuto, mettiamo per esempio questo e facciamo finta che queste siano delle card che vanno sotto le nostre barre di iOS. Il contenuto effettivamente è più grande del frame, quindi qui non ci mette più nessun avviso e se noi adesso andiamo in play, questo effettivamente scrolla. Ovviamente c'è un problemone, cioè che queste parti qui devono rimanere fisse perché per simulare meglio come funziona il prototipo queste due devono rimanere dei punti fissi. Per farlo andiamo all'interno di design, selezioniamo il nostro elemento e andiamo a mettere fixed position when scrolling qui e qui e poi generalmente questi elementi qui che sono fixed e che non vado più a toccare li blocco così non mi danno fastidio. Quindi se noi adesso andiamo a mettere in play, effettivamente tutta questa parte scrolla. Ok, vedete che non scrolla fino in fondo, quindi come fare a risolvere questo problema? Abbiamo due vie per vedere il contenuto sotto. Uno è selezionare e temporaneamente togliere clip content e quindi per esempio andare ad allungare questa parte che però non è la soluzione migliore. La soluzione che di solito uso io è quella di andare ad allungare proprio il frame. Ovviamente se noi adesso mettiamo in prototype lui prende tutto quanto. Quindi per sistemare questa cosa andiamo in show prototype setting e diciamo che vogliamo un iPhone 8 come device. Quindi vedete che adesso andando su fit inizia a prendere una forma e effettivamente va fino all'area di occupazione della nostra schermata. Qui ci dà sempre l'avviso però noi sappiamo che poi entrando dentro effettivamente il device sarà più piccolo e quindi funziona. Quindi questa cosa qui ottimo e funziona. Un'ultima cosa che aggiungo è su questa parte qui, una cosa che faccio dato che questa deve essere sempre posizionata in fondo è allinearla in fondo al frame e mettere questo constraint al bottom. In questo modo funzionerà uguale nel prototipo, esattamente lo stesso modo perché renderà a posizionarsi nel punto più basso del frame del prototipo. Quindi questo è molto utile per non averla lì in mezzo e per comunque avercela funzionale e sempre al punto esatto. Adesso andiamo a fare un esempio invece con uno scrolling orizzontale. Andiamo a duplicarci la nostra board. la facciamo alta 677 così, questo ce lo togliamo e andiamo a prendere queste che potrebbero essere delle card orizzontali. Vediamo un attimo così. Potrebbero essere distanza di 20. Mettiamo un auto layout e qui facciamo clip content. Per far sì che gli elementi scrollino all'interno, qui dobbiamo mettere horizontal scrolling, ci dà il nostro solito avviso. Quindi noi andiamo a ridurre e possiamo subito provare. Allora aggiungo un flow starting point e lo chiamo horizontal così sappiamo che il prototipo parte da lì. ed effettivamente andando a scrollare vedete che funziona. Funziona giusto perché effettivamente abbiamo lasciato i bordi e poi qui abbiamo tolto il clip content così si vede l'anteprima della card dopo. Se non l'avessimo messo ovviamente rimane tagliato, funziona ma non è bello. Andiamo adesso a vedere un esempio con lo scrolling verticale e orizzontale. Questa è una cosa che viene utilizzata in generale un po' di meno, però potrebbe essere utile per esempio per simulare la navigazione all'interno di una mappa. Adesso andiamo a crearne subito una. Apriamo figmap che è un plugin che permette di creare le mappe. Ci mettiamo dentro lì. Vediamo un po'. Cosa succede qua? Ci mettiamo magari questa mappa. Andiamo ad aprire figmap che è un plugin per disegnare le mappe e portarle direttamente. Andiamo per esempio a mettere questa qui. La inseriamo e andiamo a mettere dei marker sulla mappa. Quindi la porto sotto. Non si vede moltissimo. Li facciamo magari rossi così. Giusto per capirci. E andiamo a disegnarli. Qua, qua, qua. Ok. Tutto questo va messo all'interno di un frame. E questo frame andiamo a posizionarlo all'interno della nostra pagina. Ok. Andiamo a ridimensionarlo in modo che stia ben all'interno della pagina. Così. E andiamo a dire clip content. Così non si vede il resto. Per abilitare lo scrolling andiamo a selezionare il frame, prototype, horizontal and vertical scrolling. Se noi adesso andiamo a lanciare il nostro prototipo. Vedremo che, un secondo che si carica l'immagine, vedremo che potremmo andare effettivamente a scrollare in tutti i modi. Ovviamente non è super veritiero come può essere quello di un sito web, però ci aiuta a prototipare. Grazie mille per aver seguito questa lezione. Per qualsiasi domanda lasciatela nei commenti o scriveteci all'interno del Discord. E ci vediamo sul Discord. Ciao!